La Correzione Fraterna è un atto per guarire il corpo della Chiesa. C'è un buco lì, nel tessuto della Chiesa, che bisogna ricucirlo. E come le mamme, le nonne, quando ricuccino, lo fanno con tanta delicatezza. Così si deve fare la Correzione Fraterna. Se tu non sei capace di farla con amore, con carità, nella verità e con umiltà, tu farai un'offessa, una distruzione al cuore di quella persona. Tu farai una chiacchiera in più, che ferisce, e tu diventirei un cieco ipocrita. Come dice Gesù, ipocrita. Togli prima la trave del tuo occhio. Ipocrita. Riconosciti che tu sei più peccatore dell'altro, ma che tu, come fratello, devi aiutare a correggere l'altro. Quando, un segno che forse ci può aiutare, quando uno vede qualcosa che non va e sente che deve correggerla, e sente un certo piacere per fare quello, state attenti, è che quello non è del Signore. del Signore sempre c'è la croce, la difficoltà di fare una cosa buona, che il Signore è sempre l'amore che ci porta, l'amitezza, e non fare da giudice. Noi cristiani abbiamo la tentazione di di farci come dottori, no? Spostarci fuori del gioco del peccato della grazia, come se noi fossimo angeli. E' quello che Paolo dice. Non succeda che dopo aver predicato agli altri io stesso venga squalificato. E' un cristiano che non in comunità non fa le cose, anche la correzione fraterna, in carità, in verità, e con umiltà è uno squalificato. Non riuscì, non è riuscito a diventare un cristiano maturo. che il Signore ci aiuti a questo servizio fraterno tanto bello e tanto doloroso di aiutare ai fratelli, alle sorelle a essere migliori e ci aiuti a farlo sempre con carità, in verità e con umiltà. a a a a a a a a Grazie a tutti.